ciao eccoci di solito iniziamo con la visione di no ci si vede il soggetto del giorno o largo si intuisce l'argomento del giorno oggi invece vi trovate questa faccione sporca sporca di barba e quindi voglio voglio che mi vediate bene 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 tutti in faccia oggi perché facciamo anche un lavoro e facciamo anche un lavoretto oggi per quanto mi riguarda semplicissimo invece per quanto riguarda molte persone e anche a quanto pare molti esperti che pare che parliamo della luna pare che stiamo parlando di cose di fantascienza e quindi oggi si parlerà buon pomeriggio quindi oggi parleremo di ciò che pare che passi ancora incompreso e questo è un video che dovete segnare ogni qualvolta qualcuno esperto o meno esperto vi dica se raccogli una pianta una latifoglia che sia caduca che sia sempre verde se la raccogli senza radici essa non ha alcuna possibilità di vita o sono ridottissime niente di più falso quindi parliamo specificatamente oggi di olivastro ma anche di mirto ma anche di leccio quindi andiamo a prendere mirtace e oleace e il genere quercus quindi iniziamo a bracciare tante cose anche l'acero perché ho l'acerino che avevo tirato via senza neanche una radicchetta ed è già al sole però quello posso prendere al sole nonostante qualcuno qualche amico che ci segue tutti i giorni avesse detto no no non metterlo al sole perché sai un acero e quindi ma scusa io quest'acero l'ho preso piccolo acerino l'ho preso in escursione nelle montagne della sardegna e quindi d'estate che cosa vuoi che ci sia e la sopra c'è un caldo infernale non pensiamo che che a mille metri in sarda anche se sia al centro della sardegna sia mille metri in mezzo al calcare ci deve essere c'è una luce anche da sotto è un caldo grandissimo arriva tranquillamente a 45 gradi senza problemi durante l'estate ok quindi questo è l'acerino che avevamo visto da poco metti a fuoco fai da bravo e ha delle foglie a dir poco microscopiche ok me li aspettavo più grandi sinceramente dove sei eccole qua guarda che carino no 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 niente sole perché un acero in questo momento si trova il sole pieno pieno sole sotto eccola lì la bella radicchetta sta sparando radici a go go si trova nella mia solita bardula un po di sfagno ma io neanche l'ho mai aperto neanche mai sollevate so spagnolo bardula piuttosto grossa siamo intorno ai è quella 10 15 mm è solo una prova è solo per me solo una prova però niente si trova in pieno sole in pieno sole a filirea che matura il fogliame inizia ecco questo è fogliame che adesso inizia a fare fotosintesi questa è la parte di sopra che come si può ben vedere nonostante io non dia praticamente azoto la pianta spara tantissimo quindi oggi allora fabio carmelo faccia siamo una 50 siamo 50 proprio vediamo poi il lavoretto lo facciamo quando siamo ancora un pochino di più che è ancora meglio sicuramente anche oggi arriveremo a 70 genere tutti i giorni arriviamo a 70 sergio valerio ciao a tutti e tutti quelli che hanno salutato sino adesso vi ringrazio di essere sempre presenti oggi e 3 oggi 3 maggio hello oriana paolo frenna aldo daniele perazzo benvenuto daniele è importante riguardo al tuo post anche la discussione di oggi ciò che diceremo oggi maltagliati scampi asparagi sono stati graditi alessandro ci credo potevi tagliarli meglio però è carmelo grande carmelo egno che mi aspettava mi aspettavate tutti di una cosa molto importante oggi sto guardando tutti quelli che ci sono cosa comporta troppo azoto non serve vuoi fare bonsai vuoi farlo bene non serve non serve tanto serve pochissimo troppo azoto comporta che se hai un terreno asfittico i funghi anaerobi gallopano problemi di asfissia problemi di funghi gallopano se hai asfissia invece per virgolette radicale per il terriccio troppo compatto ma è tutto molto scarso di azoto sia le concimazioni sia il terriccio e la gestisci in modo molto molto diverso molto è molto dire cambia tutto che è fondamentale quindi io io ragazzi coltivavo in serra dal ragazzino usavo il chimico 30 10 10 erano colture spot cioè due mesi e doveva andare in vendita perfetto il terriccio non si saturava avevo il miglior concime praticamente del mondo un chimico o super un chimico super era della della petters professional un'azienda al top andava bene ma per far bonsai non serve vi sto dimostrando ultimamente che ho crescite nonostante non utilizzi quantità elevate di azoto anzi quello chiuso io un 338 tanto potassio che potassio non deve essere in eccesso ovviamente però c'è chi utilizza ad esempio in autunno un 30 per cento di potassio nel conci nella concimazione non serve non serve i tre titoli npk devono essere sotto il 10 che se vuoi coltivare bene e se vuoi coltivare bene ci sono tanti altri parametri per cui ottieni degli ottimi risultati e non di certo per la quantità di npk e titolazioni alti alti o tantissimo azoto spingere ma ne non serve a niente stefane dubundi ciao egnios saluto amici saluto a tutti saluto a tutti saluto a gli italiani a gli spagnoli messicano argentino hai 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 mucha gente che hable spagnolo si puedo hable un pochito eh hola guan daniele claudio albanese giovanni muñas bene siamo abbastanza giuseppe la stella quando lei mandata aspetti una risposta tra qualche giorno ragazzi c'è una possibilità di acquistare in modo facile senza passare dai miei messaggi mandami dati che ti ricarico e ancora qualche giorno penso tra metà della settimana prossima e fine della settimana prossima quindi quando non rispondo ai messaggi sto solo prendendo un pochino di tempo tutto qua non è che io non voglia rispondere li leggo li vedo ovviamente sarebbe da domanda la pulizia degli aghi si può fare anche tagliandoli a dicembre a dicembre li tiri via non succede nulla tempo perso a tagliarli rimane la pianta bruttina se a me ora mi arriva una pianta con aghi che sarebbero dovuti essere già tolti da dicembre li taglio perché cerco di recuperare un po di tempo tutto qua manca sempre enzo e chiama lo chiama enzo siamo a 69 ecco manca lui preparazione esposizione sui secchi in giappone no 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 allora io non sono sui secchi sta e quindi non mi esprimo sarebbe bene chi è sui secchi sta di fama non si esprima su cose che non sa tipo radicazione di olivastri stai zitto no problemi col pc e da ci guarda dal telefono chiamatelo walter peloso ci conosciamo da un sacchissimo sto guardando tutti quelli che sono connessi pietro strada grande pietro ho seguito il suo giurimento il tuo suggerimento pietro e mezz'ora ho dormito perché il pranzo era un po pesante marcos antoni marcos antoni è il risolto colleccio oggi oggi puoi fare le domande che ti possano interessare e non mi dimentico di te marco tu hai comprato la bardula da me e non sei riuscito tra virgolette a avere risultati e ed è strano come ho scritto con la bardula succedono due cose molto strane e non vanno bene cioè strane succedono avvengono due cose che 99 su 100 è una bomba ok 1 su 100 è una cagata non può non non c'è qualcosa che non va quindi se oggi hai piacere di far domande io sto a disposizione anche perché il lavoro che facciamo è brevissimo e invece voglio stare a disposizione tu per tu anche dei persone che 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 hanno avuto problemi acqua presa in grosse tinozze con pesci rossi o con cimo così e quasi niente con cime può andar bene io lo io la usavo quel tipo di acqua per dirti può andar bene guarda già ci sono due due variabili acqua quindi quanta acqua e quanto azotto rilasciano i pesci questa cosa la puoi vedere solo con la conducibilità un conduttivimetro un attrezzino e misuri la conduttività e dopo la guardi la confronti il valore con delle tabelle che si possono trovare anche online sulla coltivazione molto in alto come professionalità ciao pietro carmelo canuli vuole che io racconti la storia del full ar viola ma non la racconto oggi non c'è tempo ieri vi sono ieri è andata via così la connessione il pino è sempre ricordate ieri e ci siamo interrotti sulla sul pino e stavo facendo vedere le gemme ce n'era una verso il basso è già sta già tirando verso l'alto quella gemma lì quindi tutto è perfetto la piega andrà a buon fine sempre marco non esiste che io marco santoni non esiste che io ti venda qualcosa o ti dica usalo perché va bene e poi non va bene e poi non riesce a farlo andare bene per me per la mia etica non esiste non è non è contemplato quindi sto a disposizione affinché tu ottenga un ottimo risultato ok ad esempio adesso entriamo in serretta io una vasca di coi l'acqua del filtro ottimi risultati certo certo non dico che non vada bene va benissimo solo che solo che non sai qua quanto sale se parliamo di sali minerali quanto sale di nitrati ovviamente anzi nel caso dei pesci sono nitriti sono più nitriti che nitrati quindi non sai quanto quanto ce n'è e io quindi non ti posso dire va bene vai tranquillo è perché se poi l'acqua è poca i pesci sono tanti mi capisci che la quantità di nitriti è talmente elevata che potresti fare danno se questo non è mi sono contento però l'ideale quando facciamo queste cose quando utilizziamo un'acqua addizionata con sali è bene misurare la quantità di sali col conduttivimetro oppure hai esperienza regressa come la mia che so che tutti i concimi chimici e organici per essere efficaci in una soluzione fertile rigante bisogna mi bisogna miscelare da uno a tre grammi di prodotto per litro di acqua ok io già la so questa cosa è descritta anche spesso nelle confezioni professionali non sto a misurare utilizzo un valore medio di due grammi in coltivazione vado benissimo se poi devo rifinire o non voglio tanta crescita voglio controllare ancora di più la crescita diminuisco la quantità di concime presente nell'acqua e la quantità di lo sanno tutti ormai di aria quindi la dimensione dei macro pori dentro il vaso sono più nitrati nel caso dei pesci che io sappia i nitrati sono una trasformazione data dei batteri dei nitriti quindi ad esempio per la nostra se noi dobbiamo ingerire dell'acqua è più pericolosa se sono presenti i nitriti non e non nitrati tra virgolette ok quindi se sono se non non è quest'acqua in cui sono presenti i pesci non è ancora lavorata abbastanza dai batteri avremo più nitriti se invece è più lavorata dai batteri avremo nitrati più nitrati che nitriti non cambia quello che uso io è solido e lo usi sia solido che liquido siamo tanti ma non vedo insino insino non farci preoccupare allora marco santoni io facciamo finta che ancora non ho tenuto nulla è però poco tempo fa abbiamo 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 rinvasato dei lecci dei quercus cocifera e in questo momento vedrete tutti ciao mirco serra guai sardinia in questo momento abbiamo tenuto già ragazzi siamo già quasi a 20 centimetri di di vegetazione alla base altri germogli anche qua vedi guarda che belle guarda questa era quella in cima ancora deve deve germogliare ma mi aspetto da un momento all'altro gemme anche questo vedi qua ci sono un sacco di gemme che stanno venendo fuori tante quindi quelle leccio non ho dubbi che tutto andrà bene non ci sono dubbi capito marco quindi io qui l'acqua l'abbiamo misurata in diretta ed era di esco perché c'è un caldo bestiale dopo facciamo una cosettina con una pianta c'è anche non ho dubbi che possa andar bene quindi si non radicano altro che radicano alla grande non ho dubbi che anche leccio possa trarre benefici della che delle caratteristiche intrinsecche della bardula che sono quelle di una elevata durata allora tempo fa abbiamo parlato oggi c'è un sacco di roba bisogna rifinire bene queste cose abbiamo parlato dei terrici e avevo scritto sul grafico che la bardula è testata per cinque anni nei vasi bonsai non si disfa ok allora da poco un amico ha pubblicato la foto della sua vasca aveva un acquario quindi viene utilizzato anche negli acquari ed è sott'acqua quindi all'azione anche dei pesci ci sono dei discus è un acquario grosso da 200 litri è quasi una vasca da bagno ed è realizzato compie quattro anni a settembre e le piante vanno vanno benissimo a cannone oserei dire quindi queste caratteristiche e dicono ma va bene per tutto perché va bene per tutto va bene per tutto per le sue doti di durata del granello delle sue doti di trattenere sostanze nutritive di rilasciarle quindi è auto ricaricabile come le pile ricaricabili e quindi se usate acqua pulita tende a cedere se invece usate acqua mista concime la bardula rimane sempre carica a valori alti e poi nel momento in cui non usate più concime o acqua concimata ad esempio d'inverno lei continua a cedere alle piante ed è questo uno dei motivi per cui le piante mie di chi usa la bardula vanno bene perché perché tutti vi hanno sempre insegnato di non concimare durante l'inverno quindi le vostre piante durante l'inverno non mangiano e arrivano a primavera più stentate del di chi delle mie di chi usa la bardula perché la bardula zitta zitta sotto sotto cede 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 tutto quello che voi di cui voi l'avete caricata ok questa è la grazie alla csc capacità di scambio cationico che siamo vicini al valore massimo e questo è fondamentale come fondamentale sapere adesso vedo ne ho testato massimo avvolino c'è un concime che io sto commercializzando dai cinque anni che l'utilizzo è un 338 38 come npk ma è completamente naturale e quindi mi pare che abbia anche una porzione umica non hai bisogno neanche di usare gli acidi umici devo verificare ma ciao tonino allora mi è dispiaciuto molto siamo tanti adesso mi è dispiaciuto molto cancellare gli interventi di alcune persone su un post l'altro giorno dove si diceva ragazzo che ha preso i miei consigli alla lettera cavando un olivastro in questo periodo senza capillari con con solo la sua base di radica che è più che sufficiente e qualcuno gli ha detto pianta sicuramente morta e addirittura faccio il nome perché un personaggio importante non non mi non mi crea problemi perché non ho cancellato il personaggio cancellato l'intervento marino nick pal ex presidente ubi mi scuso di aver cancellato il tuo intervento ma più che altro mi scuso di non aver poi giustificato in privato averti chiamato non lo faccio con nessuno quindi per me chi scrive a tutti lo stesso valore o scrivi una cosa che va bene o scrivi una cosa che va male se scrivi una cosa che va male non penso male di te cancello l'intervento semplicemente ok se scrivi una cosa che va bene io non intervengo quindi sui post chiunque può intervenire io non ho problemi anzi fatelo fatelo se avete esperienza ma se non hai esperienza non scrivere ti cancello l'intervento quindi mi è dispiaciuto ma veniva detto al ragazzo che quella pianta era sicuramente morta cosa che io vi sto dimostrando da due mesi che ciò non è possibile se segui determinate procedure bravo salvo salvo campisi certo che si è utile che chi scrive abbia esperienza se hai esperienza scusami mi rivolgo proprio a marino nick pal si è esperienza cui sui secchi con le pietre va benissimo vuoi fare dei post sui secchi sei benvenuto ma se vuoi scrivere cose di cui non hai conoscenza io ti cancello l'intervento e così è successo anche un altro ragazzo che si è accorto che li ho cancellato mi ha scritto in privato chiedendomi scusa non c'è alcun problema non c'è niente da chiedere scusa hai scritto un intervento che non era a mio modo di vedere non non era giusto crea a creare panico e confusione e quindi l'ho cancellato ma non ho nulla con nessuno chiunque può scrivere periodi di concimazione adele mongeo periodi di concimazione io siccome uso la bardula il poco fa ho spiegato che si carica e cede sto in sardegna diciamo che io concimo che non concimo nei mesi di gennaio e febbraio basta non concimo in quei mesi ma in quei mesi ci sta pensando già il mio substrato a cedere sostanze nutritive e non brucia ovviamente perché è tutto naturale è tutto in ottica bio altra cosa non accetto che si diano consigli usa rel dan che non ho mai sentito mai utilizzato usa questo insetticida piuttosto che questo fungicida sistemico in questo gruppo non si utilizzano questo tipo di prodotti non è contemplato l'utilizzo completa contemplato l'utilizzo della testa capire quello che stiamo facendo coltivare con cognizione non dovete fare gare non è una gara non andiamo a vincere mister olimpia dove tutto deve essere al massimo e quindi anche cose proibite ok non dovete fare gare e quindi bio e ottenete risultati come minimo almeno come li sto tenendo io che mi sembra sembra che siano buoni talea di olivastro sette centimetri fortuna no hai fatto tutto bene cambiato concime 5 10 15 più micro elementi sei sempre troppo un po troppo alto andrea sei comunque troppo alto e sei troppo alto non che vada male però cerca di abbassare ancora tutti i valori sotto il 10 fa più la concimazione autunnale che quella prima primaverile ma certo ma ma certo il potassio è necessario se noi per far bonsai il potassio è sempre necessario dopo che fili necessario che cicatrizi subito che lignifichi se devi fare un rivaso necessario che la pianta sia stata caricata di potassio se vuoi interno di corti non ti serve l'azotto ti serve più il potassio i colori belli vividi un bel verde è sempre tutto a favore di potassio voglio provare con tipo piccolo acquario di 550 litri salvo campisi se tutto va bene la bardula sarà disponibile subito dopo l'estate quindi penso settembre in due parole cosa pensi dei concimi fogliari non li uso roba in più allora concimi fogliari sono stati inventati per pompare per pompare le verdure che mangiamo ok sono stati inventati per quello stop coltivate facendo lavorare le radici alle piante quindi il momento in cui chi usa fogliari è perché deve fare gare devi fare gare a livello mondiale allora dai anche fogliari ok ci siamo si è bloccato un attimo sono anche fuori questo è marcos antoni io non li uso non uso concimi fogliari allora salvo campisi il massimo che io ho allora io ho provato non ho provato a mista quindi in questo vantaggio di usare 50 50 pomice bardula può essere solo per abbassare i costi però non ho esperienze in pomice pura e in bardula pura non ho esperienze di 50 50 penso che vada bene sicuramente va molto meglio che pomice pura perché io io personalmente con coltivazione biologica quindi non super spinta non caricando all'eccesso e avendo anche poi magari potresti avere dei problemi di eccessi non l'ho provata ok però bardula e pomice io so ad esempio che zino ha sostituito la bardula con la cadama utilizza della pomice fine nei vasi tipo un 30 per cento quindi 70 per cento bardula e 30 per cento pomice questo perché lui dice che la pomice trattiene un po più di acqua e coltivando sulla terrazza come coltiva lui ha più autonomia idrica però ha il grosso vantaggio del 70 per cento di di barduletta cassetta per coccinelle ci riuscirò cosa può tirare gli insetti positivi ma a mio parere va bene che tu compri una cassetta di coccinelle a mio parere io le coccinelle non le compro la cosa che c'è da fare è dare l'esempio e quando qualcuno ci dice o le formiche o i pidocchi capire dove sta sbagliando a coltivare e non consigliare fitofarmaci la strada migliore non usare fitofarmaci dare l'esempio piante grasse 369 luigi mallozzi ottimo con cime piante grasse ottimo non è che abbassi i valori diluendolo però utilizza metà dose nicola cascione non serve pompare le piante tonino equilibrare prego salvo lapillo vesuviano no daniele non penso che se allora ne ho già parlato abbondantemente di questo lapillo vesuviano dipende dall'età se un lapillo tra virgolette giovane è abbastanza vitreo e non cede dipende da quanto la sua struttura molecolare sia disgregata in modo tale che c'è da qualcosa altrimenti è solo un inerte come la pomice né più che meno è vero che è fatto di tanto potassio tanto fosforo di tanto ferro infatti rimane attaccato la calamita ma non è detto che sia cedibile quindi per capire queste cose bisogna fare delle analisi sugli elementi cedibili alle piante e non di che cosa è fatta quella pianta come dire un chiodo di ferro e un chiodo di acciaio inox chiodo di acciaio inox non non cede nulla se utilizzi dei chiodi di ferro che arruginiscono e lavorano con l'ossido si ossidano e c'è presenza di ruggine allora cede qualcosa no è chiaro affidi su melograno questa poi primavera extravergine sì vabbè certo giovanni liguori non c'entra tale con la pomice poi coltivare ragazzi si può coltivare benissimo con la pomice il problema che difficilmente riesce a coltivare biologico ho letto una cosa allora avete notato se l'avete notato in primavera tutta la natura si riproduce giusto gli uccellini tutto si riproducono anche i parassiti quelli che chiamano parassiti per me sono bio regolatori soffitto regolatori è un'altra cosa è un altro un altro modo di pensare quindi in questo momento avete anche una presenza di parassiti chiamiamoli così cocciniglia di varie varie forme di 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 esseri viventi che fanno parte della terra che hanno bisogno necessità di riprodursi questo perché in un certo senso sono utili alle piante difficile da far capire e quindi ne avrete avrete un po di presenza sulle piante ne ho anche io anche io qualcosina ma non è dovuto dalla sbagliata coltivazione è dovuto dal fatto che hanno esigenza di riprodursi di di andare avanti nella vita perché sono utili alle piante non sono dannosi siamo noi che siamo dannosi cavare un pelo selvatico cavare un pelo selvatico allora si margotare al margotti le radici e lo puoi fare appena ti arriva la rivista a me tanto la rivista arriverà lunedì martedì insomma da mercoledì penso che sarà disponibile invece se vuoi cavarlo il pero lavora come tutti i fruttiferi appena perde le foglie in autunno appena le perde e non quando sta gonfiando le gemme sbagliato domani facciamo domani facciamo una lezione sui periodi dei rinvasi e perché si fanno in quei periodi così stravolgiamo un'altra roba alessandro romele quella cocciniglia che hai tu sul ginepro sicuramente perché può essere per due motivi o perché sta in zone in ombra della chioma quindi non fotossidentizza bene quella parte la pianta tende a scartarla oppure perché stai irrigando male quindi o hai asfissia o resta troppo asciutto quindi userei userei la testa per risolvere il problema ovviamente capito il problema passata di acqua ad alta pressione la tiri via che puoi farlo ma pensa quale possa essere il problema allora luigi mallozzi io non faccio concimi io compro un concime organi organo minerale dove l'aggiunta di minerale minima veramente minima poca giusto per renderlo completo però la base deve essere completamente organica ciao simonetta ce l'hai fatta a fare il rinvaso ha parlato del pero in sardegna non se ne trovano in sardegna se ne trovano però selvatico in sardegna è pieno allora sino ad oggi io non l'ho mai coltivato perché perché si dice che soffra del colpo di fuoco batterico e quindi ho sempre avuto paura di coltivare rosacee praticamente sono molto da da studi da ragionamenti che ho fatto praticamente sono molto sensibili al calore dei vasi quindi sono estremamente convinto che adesso dovrò iniziare sicuramente a fare qualche prova non le ho ancora fatte ma sono estremamente convinto che utilizzando la bardula che asciuga con tempistiche che io riesco a progettare ok utilizzando un tipo di vaso che non si scaldi d'estate possa risolvere già il problema così dei colpo di fuoco batterico magari potrò avere dei bei perastri non mi dispiacerebbe averne qualcuno il concime già disponibile nicolas perra tale ito ci vuole la serra umida adesso ci vuole la serra umida assolutamente il periodo migliore è dettato sempre dalla nostra capacità di gestire il materiale quindi il periodo migliore può essere qualsiasi se tu riesci a cambiare temperatura e umidità tenendola intorno ai 20 gradi è un'umidità intorno ai 90 per cento di umidità puoi farla in qualsiasi periodo qualsiasi mese ciao corrado non vieni più in sardegna non sono da solo a desiderare di avere un pedastro eh sì ragazzi vi ricordate il cartello con cui erano iniziate le dirette dove c'era scritto non sei solo oggi domani inizia un pochettino qualche spiraglio di insomma potremmo essere un pochettino meno soli però oggi pensavo che quel cartello non era solo per il fatto del corona coronavirus ma anche per il fatto nel nostro caso molto più importante dove ho notato che molte persone ho notato insomma molte persone mi hanno scritto per dirmi grazie perché sto iniziando a risolvere i loro problemi di quando pensano come lavorano le piante cosa devo fare ci sono un sacco di persone che dicono cose contrarie non si capisce nulla e quindi alla fine quel cartello non sei solo è diventato non sei solo coi tuoi dubbi sulla coltivazione quindi continueremo questa cosa se trassi piano piano come saremo più liberi si trasformerà in non sei solo dentro casa ma anche in non sei solo non sei il solo ad avere problemi di coltivazione e li risolviamo assieme è problematico se tu usi pomice se tu usi pomice usi a cadama che si compatta usi pomice che è difficile da controllare il livello di umidità all'interno utilizzi vasi che si scaldano è super problematico è come avere delle rose se coltivate delle rose in vaso ha gli stessi problemi una rosacea solo che sul perastro sono ancora più più elevati passione comune volevo rinvasare una però alla fine oggi ho visto che è piaciuta molto finisce così e la organizzo un po meglio per domani perché vi faccio vedere a leggiamo questo massimo melis massimo melis può andar bene ci vediamo purtroppo non ci possiamo bere un caffè insieme però allora ragazzi io ho guarda qua o dei pezzi lo vedi sapete cos'è questo domani li mettiamo in vaso guarda questo si trovava così per terra questo è tutto marcio questa parte germogliata dopo che io l'ho presa e oggi ho notato che che inizia ma eccola qua eccola una radice che inizia a radicare sapete quanto tempo sta acqua per terra quattro mesi anche questo vedi domani guarda sono pezzi sono pezzi di olivastro poi guarda qua con la stessa tecnica questi sono mirti vedi guarda quanti germogli a quello guarda ok allora è sempre la stessa tecnica di tagliare completamente la radica è la radica rimane sul posto i giorni prossimi vedrete farò proprio dei tutorial su come cavare sia olivastri che mirti da zero questo perché bisogna bisogna che tutti si vada sulla stessa direzione bisogna anche che quando qualcuno dice santa sera certo e qualcuno dice no quella pianta tu l'hai cavata senza radici quindi morirà sicuramente voi li possiate dire in faccia guarda sei sbagliando di brutto vai a vederti i video di stefano pinna e poi ne riparliamo quindi stefano pinna lavora su quel tipo di pianta non su una due su centinaia sempre con gli stessi risultati questo è fondamentale perché mi sono un po sono un po scocciato del fatto che troppi neofiti vengano tenuti nell'ignoranza e quindi non non mi piace questa cosa veramente non mi piace cielo a cuore bisogna che tutti salgano di livello e tanto come è successo per gli acquariofili che è un acquariofilo medio rispetto a un bonsaista medio è a un livello eccezionale altissimo sono dei chimici deve succedere anche con i bonsaisti bisogna salire di livello essere tutti più e per questo farò guide farò dispense scritte video e metterò a disposizione tutto quello che utilizzo in modo tale che tutti si possa salire di livello basta non se ne può più di di tutto sto caos e non si capisce niente mi radicano anche i sassi sì anche il mirto di enzino che ha delle cacciate belle da 15 centimetri in puglia molti olivastri le tue azioni mi stanno spingendo a cavarne qualcuno se vuoi aspettare fabio poi lo facciamo assieme nel senso che io tra poco settimana prossima caverò e poi quella dopo quindi ci vorranno dieci giorni tra dieci giorni inizierò a farvi vedere nuovamente da zero che cosa combino come le pulisco materiali che utilizzo e come faccio i vasi come lei leggo e le cure post adesso siamo al top queste nozioni non dobbiamo andare a depredare qualsiasi cosa viva assolutamente no questo tengo a dire una cosa adesso la dico allora egno quello che dice egno è estremamente giusto quando mi capita di parlare con amici ciao fai bonsai si cavo allora a me capita di quello le piante che cavo io per far per spiegarlo a qualche amico che non è bonsai sta che non sa nulla di piante da poco mi è successo di dirgli guarda io se dovessi catalogarle in una in una qualcosa di umano direi che siano clochar che sono stanno per morire mi capita di vedere piante di cavare cavo piante la maggior parte che hanno due tre quattro anni massimo di vita sono alla fine della vita perché stanno completamente in ombra a volte stanno appese solo per una radice fine e quindi da lì a breve moriranno e sono sono anche le piante che piacciono di più quindi vado a prendere piante che a livello forestale o valgono nulla ormai non valgono più nulla perché non sono più in grado di crescere stanno solo regredendo che funzioni vitali al minimo quindi addirittura radicano vanno avanti diventano belle possono tornare a splendere quindi questa associazione che faccio sempre al mondo umano dove io prendo delle piante io prendo delle piante clochar e renda belle attive felici questa è la mia filosofia non bisogna andare a prendere qualsiasi cosa ovviamente qualsiasi cosa si muova come un cacciatore qualsiasi cosa si muova spari no non ho nulla contro la caccia non mangiava cinghiale ogni tanto nebulizzare le conifere nebulizzare la chioma tenerle in un ambiente in un ambiente umido può aiutare nelle tutte le lavorazioni con sempre stando attenti che non sia a non tenere che anche il terriccio non stia sempre zuppo ma che lavori la il ginepro che avevo messo in vaso da margotta l'altro giorno ho visto che sta crescendo ma l'ho messo dentro la serra e su un lato dove arriva la nebulizzazione solo sulle foglie il terriccio invece sta lavorando bene asciuga non l'ho ancora irrigato salvo campisi è quello che dice salvo campisi in più rimane la radica e la radica rigermoglia quindi lasciamo la radica in natura portiamo via la parte che in genere è quasi tutta marcia la portiamo a casa ci facciamo bel bonsai e dalle radici nasceranno nuove piante perché l'olivastro rigermoglia adele giovanni giovanni liguori non è il caso del mio gruppo non viene deriso nessuno addirittura ho messo il posto di valentina con il rosmarino è un'altra pianta di cui non mi ricordo che mi ha ricordato le prime piante con cui io iniziai anzi queste qua sono più belle di quelle che avevo io quando ho iniziato quindi le ho messo in alto ok siamo tutti neofiti ce ne ha dato prova l'altro giorno il signore sui secchista che ha detto che l'olivastro non radica se non ci sono un po di radici quindi in quel caso lì è stato è un neofita siamo tutti neofiti con tutto il rispetto bisogna crescere solo per business privato ma uno può farlo il business dove sta il problema e mi dà tiro del lei lei è l'unico ho sentito dire che vuole alzare il livello di noi neofiti tiziana da sono giovane ancora già bisogna ma come puoi dire che tu fai opera di divulgazione bonsai attraverso un club e poi quando arriva una persona con un ficus ginseng la mandi via come poi come come è possibile ridi in faccia ti porta un rosmarino filiforme gli ridi in faccia allora non ti ricordi di come è iniziato tu o tutti abbiamo iniziato con gli to igawa di 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 miura che non esiste tutti abbiamo tutti iniziato con piante acquistate alla coco fu tutti pare di no marco santoni le gambe del tavolino allora marco santoni non è vero puoi fare adesso le margotte si possono fare adesso maggio prenditi la guida perché ti aiuterà parecchio nelle nozioni che ci sono nella guida si capiscono anche molte cose sulle piante molte e quindi si possono fare ancora le margotte e si possono fare anche d'estate si possono fare anche in autunno ragazzi prendete la guida perché vi insegna sulla guida le foto che ci sono sulla guida sono inerenti solo a ginepri ma ciò che c'è scritto applicatelo e c'è scritto di applicarlo su tutto ci sono le differenze quindi non ci sono scritte non ci sono tabelle che non servono a niente nel mese di maggio fai questo non serve a nulla serve capire interpretare cosa fare e in quando farlo bravo maurizio saracino nebulizzare col sole non serve a niente luigi malozzi lo scritto proprio oggi l'acqua evapora in cinque minuti che benefici dato alla pianta niente hai sprecato tempo sì sì daniele perazzo assolutamente sì se vuoi cavare qualche relitto in questo momento ai ai tante possibilità di riuscita diciamo un 98 per cento ti basta quindi per avere una perdita di due piante devi cavarne 100 e no lo sai che io cavo reliti e tanto che mi conosci e sai benissimo che cavo piante al limite della vita quindi la serra sopra e chiusa e chiusa quasi ermetica ci sono dei nebulizzatori che trovate al brico di quelli della club semplici un programmatore ecco fatto in questo momento sto dando quattro volte al giorno concentrato più nelle ore centrali alle 10 a mezzogiorno alle 14 alle 16 basta certo vincenzo grazie a me che ripreso giovanni io mi diverto ogni scarrafone bella mamma soia da guardiamo in diretta se senti che è partito qui c'è il ginepro guarda senza volerlo oggi guarda è visto è partito che adesso sta un minuto mi serve un programmatore da regolare in secondi perché un minuto a volte troppo vorrei farne di più durante la giornata più brevi quindi vorrei farle anche solo da 20 secondi anche ogni 15 minuti sarebbe molto meglio claudio albanese non ho fatto i test col tuffo non ho fatto i test bisogna vedere vedere cosa c'è scagli la prima pietra chi non è iniziato con un ficus beh ma non è detto che te lo dicano oriana ma le marmotte voleva scrivere le margotte non si fanno ecco se tu prendi la guida capirai quando e si fanno le margotte ok non c'entra niente mese certo andrea filippucci potrai fare la margotta sulla camelia al cento per cento tranquillo per avere la guida attendete qualche giorno non ti preoccupare assunta perché sarà disponibile non penso che chiediate diecimila pezzi in una settimana lo dice per gli altri egno certo pina melograno nano da poco le gemme posso margottarlo ora cosa devo fare dopo la margotta e compri la guida e lo scopri grazie egno mio amico del cuore ti riporterei in giappone solo per questa dichiarazione guarda fammi mettere la cosa sulla batteria nell'eden salvo campisi perché olivastri cavati nella stessa settimana messi poi a dimora stesso ambiente mi ritrovo compiante già con getti lunghi venti e altre invece ancora ferme senza alcun segno di vita grazie che hai fatto questa domanda la spiegazione molto molto semplice e mi mi chiedo come mai tu non ti sia risposto da solo perché allora faccio un esempio avete mai visto una famiglia diciamo composta da più di 34 elementi i fratelli uno è magro e l'altro è grasso magari mangiano grasso scusate sovrappeso è più robusto o è molto più basso e magari l'alimentazione la madre e la fa simile diciamo così per dirla breve sono piante da seme il cui dna è differente e devono adattarsi a tan sono fatti apposta la natura è fatta apposta per adattarsi a tutto più al più possibile quindi ai piante che si adattano molto facilmente alle nuove condizioni di vita e altre no non è detto che muoiono reagiscono dopo e questo è dovuto solo al dna differente fossero da talea reagirebbero tutte alla stessa maniera perché è una riproduzione agamica ok quindi pezzi della stessa pianta reagiscono nella stessa maniera ma siccome sono pezzi con dna completamente differenti reagiscono in modo differenti è successo anche a me con dei mirti dove 11 ancora non ha voglia di andare più di un anno adesso l'ho messo sui banchi al sole detto o vai o vai cioè basta stare là dentro è chiaro no fabrizio francioni avevo intenzione di di metterci un elettrovalvola collegata con alexa con si programmarla attraverso l'app dell'iphone penso che farò così alla fine molte foglie lo tengo in serra umida o fuori all'ombra grazie allora daniele tozzi sia delle gemme evidenti carine belle puoi tenerlo fuori se vedi che non vedi gemme non vedi nessuna vitalità mettilo dentro in serra o in busta lo così accelere non muore di certo però accelere tutto giovanni liquori piacametro negozi su ebay su amazon nebulizzare col sole non è pericoloso nessun danno da quanto sono online oggi vi voglio salutare si marcello vacca è un'altra cosa le semine vediamo più avanti e allora ci salutiamo ennio anche se mi sono in arrivo wikipedia allora ragazzi ci vediamo domani mettiamo in vaso quelle chicchettine li quei qui clochar di olivastro vediamo quanto è sempre veramente semplice da cui si possono ottenere opere d'arte perché già già preparate dalla natura ok ci vediamo domani è stato bello ciao ciao ragazzi